Bitcoin è morto, il crash del mese di marzo ha dimostrato in maniera chiara che i mercati delle criptovalute non sono in grado di essere paragonati ai mercati old. Lo strumento Bitcoin in particolar modo è crashato, si è autodistrutto, è andato giù a picco, ha avuto una volatilità immensa, non si può più riprendere, è finito, non è un bene rifugio. Non lo so ragazzi, che vogliamo mettere? Qualsiasi cosa volete mettere voi, Bitcoin è quello, è vero? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi analizziamo dati, ancora una volta, di Bitcoin confrontato con quello che è lo standard impulse 500, l'indice old, perché voglio farvi vedere come alla fine dei giochi, Bitcoin dopo questo crash del primo trimestre 2020, in sostanza ragazzi, non è andato da nessuna parte. E vi farò vedere anche un confronto per farvi capire se è vero o meno che Bitcoin è più volatile di standard impulse 500, non è un investimento adatto per il lungo periodo, sì o no, andremo a vedere questa cosa, confrontiamo i dati, perché i dati non mentono mai, e cerchiamo di fare chiarezza anche sul come dobbiamo ragionare quando investiamo nei mercati delle criptovalute, perché proprio questi numeri in questo video di oggi ci daranno la possibilità di capire come approcciarci a questo mercato e da qui poi ragioneremo anche su qualche strategia utile per investire nel lungo periodo su Bitcoin, sui mercati delle cripto. Conviene Bitcoin? Conviene standard impulse 500? Quali sono le differenze? Cosa è successo in questi mesi? Io sono Mauro Gami, benvenuto nel mio canale, prima di andare a vedere tutti questi numeri che voglio mostrarti oggi ti chiedo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e ovviamente pollici in su come sempre e ragazzi poi vi chiedo anche di scrivermi nei commenti quello che pensate voi su questi numeri che sono abbastanza sbalorditivi. Postiamoci sui gratici. Allora ragazzi andiamo a guardare, confronto rendimenti, standard impulse 500 contro Bitcoin ragazzi. La cosa principale secondo me relativamente a questo video è questa colonna ragazzi, guardate un po' questa colonna qui. Yield to date, allora ragazzi yield to date significa il rendimento di uno strumento finanziario dall'inizio dell'anno fino all'attuale data, quindi si presuppone sia dal primo di gennaio al giorno odierno che è in circa il 20 di aprile 2020. Allora questo è il rendimento di Bitcoin dall'inizio dell'anno e questo è il rendimento dello standard impulse 500 dall'inizio dell'anno. Qui possiamo chiudere il video. Ciao a tutti, ci vediamo nella prossima puntata. Scherzi a parte, allora analizziamo i dati, analizziamo i dati, facciamo anche il commento e l'opinione. Standard impulse 500 perde circa il 12% da inizio di anno, tra le altre cose ragazzi volevo anche dirvi che io ho fatto questa analisi anche in questo momento perché standard impulse 500 è salito tantissimo, perché i mercati hold sono saliti tantissimo, quindi non è un momento in cui i mercati hold sono crashati e Bitcoin no. Ragazzi questo è un momento forse al contrario, in cui Bitcoin dimostra un po' di debolezza o di riflessione e lo standard impulse 500 è stato super pompato da tutte le liquidità messe in atto dalla banca centrale, dalla Federal Reserve. Quindi in questo momento se dovessi dire se c'è un po' di spostamento è certamente a favore dello standard impulse 500. In ogni caso, da inizio anno, lo standard impulse perde il 12%. Bitcoin ragazzi non si è mosso. Sì, lo so, sembra strano perché ragazzi a volte quando noi vediamo dei movimenti sui mercati come quello che è stato ad aprile, i primi di aprile, la fine di marzo soprattutto, che c'è stato questo crash. L'idea di fondo è quella di iniziare a temere che magari uno strumento finanziario possa andare a fallire. Ho visto una serie di video pubblicare sul crash delle criptovalute che erano morte, che erano defunte. Abbiamo fatto un sacco di video anche sul canale con diversi youtuber. Abbiamo fatto tante tante riflessioni ragazzi, però alla fine i dati lo sapete cosa dicono? Che bitcoin da inizio anno non si è neanche mosso. E che in sostanza la crisi relativa alla pandemia non l'ha minimamente toccato ragazzi. Perché questa colonna è esattamente il rendimento, il movimento dello strumento finanziario durante la pandemia che stiamo vivendo. Incredibile, ma è esattamente così e vi dirò anche un'altra cosa ragazzi. Bitcoin, così come tutti i mercati delle criptovalute, non hanno beneficiato in nessun modo di immissioni di liquidità. C'è una stamperia su Twitter, questo è vero. Comunque non si capisce ancora quanto influenza sul bitcoin. Magari gli dedicheremo un video a parte, comunque sì, questo sì. Però io parlo della stampa che ha avuto la Federal Reserve relativamente ai mercati hold. Ragazzi, i mercati criptovalute, lo so, sono saliti e scesi. Bitcoin sembrava collassare quel giorno di marzo davanti ai grafici di notte. C'ero anche io, però alla fine dei giochi non si è mosso. Andiamo ad analizzare però anche le altre colonne ragazzi. Allora, a tre mesi cosa succede? A tre mesi vedete che cambia un po' tutto. Perché qui andiamo in sostanza un mese indietro. Perché qui andiamo in sostanza un mese indietro rispetto a questo dato qui ragazzi, che è più o meno un trimestre. Questo qui invece ha un mese in più. Già con un mese in più ragazzi, Bitcoin era più alto a dicembre. Quindi si equivalgono più o meno i due strumenti finanziari. Quindi Standard & Poor's ci porta a un meno 13,50, quasi meno 14, Bitcoin meno 17. Siamo più o meno lì. Sostanzialmente perde un po' di più Bitcoin, ma siamo lì. Andiamo ancora più indietro ragazzi. Sei mesi, sei mesi a questa parte. Lo Standard & Poor's recupera perché veniva da un grande up del 2019. Mentre Bitcoin rimane ancora stabile con gli ultimi tre mesi. Quindi in sostanza perde Bitcoin rispetto a Standard & Poor's. Se andiamo invece a un anno ragazzi, restiamo con questo numero. Più 34 per quanto riguarda Bitcoin, meno 1,50 per quanto riguarda Standard & Poor's 500. Arrivederci, ancora una volta. Chiudo il video, non c'è più bisogno di continuare. Ma non è vero perché devo farvi vedere anche la volatilità. State qui, state sul canale ragazzi perché tra pochi minuti, pochi secondi, finiamo di commentare questi dati e vedremo anche la volatilità relativa dei due strumenti. Se è vero o no che Bitcoin è stato più volatile. Ragazzi va bene, a un anno Bitcoin stravince, però poi a due anni vince l'SP 500. E a cinque anni ragazzi mi metto un grande punto interrogativo e vi chiedo, chi di voi mi sa rispondere a cinque anni? Ma che lo facevo a fare a cinque anni? Che Bitcoin cinque anni fa ragazzi era nel 2015 e valeva pochi dollari. Bitcoin vince ovviamente in maniera incredibile. Quindi inutile fare qui perché il winner is ovviamente ragazzi Bitcoin al 100%. Non so quanto è il rendimento ma parliamo sicuramente di oltre il 1000% per quanto riguarda Bitcoin. Ma ragazzi da questi dati se ne desume una cosa. Il mercato delle criptovalute Bitcoin è in sostanza fermo da due anni. Lo vedete qui. Cioè meno 13. Meno 13 ragazzi per un mercato delle cripto è un'oscillazione di un giorno. Quindi giusto per chi di voi magari non conoscesse questo mercato vi assicuro che è sostanzialmente niente. Quindi è fermo da due anni. Standard e Pulse 500 ancora guadagna ragazzi a due anni. Ovviamente perché l'ultimo settimana è salito tantissimo grazie all'alquidità immessa dalla Federal Reserve. Altrimenti avremmo avuto un numero negativo anche qui. Però in questo momento c'è da dire che i mercati old vincono sul Bitcoin, sul rete delle criptovalute a due anni. Però se andiamo poi nel lungo periodo, quello vero ragazzi, a cinque anni, chiaramente stravince Bitcoin. Ma allora rispondiamo con un'altra domanda. Il mercato delle criptovalute ci ha fatto così paura perché da inizio anno abbiamo visto che non si è mosso proprio da gennaio. Però ci ha fatto paura rispetto al mercato old perché è più volatile. Eh sì la volatilità. Allora cosa facciamo? Andiamo su un altro grafico che mette a confronto ragazzi. Bitcoin con Standard e Pulse 500 è la loro volatilità relativa normalizzata. Normalizzata? Che vuol dire? Non ve lo spiego perché se no il video finisce domani. Allora normalizzata semplicemente è calcolata in tasso percentuale ragazzi. Stupidissima informazione. Serve per mettere a confronto due unità di misura. Altrimenti la volatilità non sarebbe confrontabile tra due strumenti che sono completamente diversi. Andiamo a guardare lo Standard e Pulse 500 ragazzi che vedete qui esattamente. Questa è la sua volatilità normalizzata più una media che insomma mi è servita ragazzi per farvi capire un po' diciamo l'andamento. Allora forse si vede un po' troppo piccolo. Quindi facciamo una bella cosa lo ingrandisco 4.6% 4.5% e la volatilità in questo momento in media ragazzi dell'ultimo mese quindi è stata molto smussata quindi non è una volatilità istantanea ma è degli ultimi 30 giorni di Standard e Pulse 500. Paragonandola a quella di Bitcoin andiamo a vedere quant'è quella di Bitcoin se effettivamente nell'ultimo mese ragazzi è stata estremamente più volatile o no. Allora al momento già qualcuno di voi magari riesce a leggere anche i numerini molto piccoli comunque ragazzi abbiamo un 4.5% di S&P 500 contro circa il 7% di Bitcoin. Quindi Bitcoin è stato più volatile di Standard e Pulse 500 ragazzi vero assolutamente vero ma non lo è stato in maniera eccessiva ragazzi. Vi faccio anche vedere perché durante Standard e Pulse è rimasto diciamo in fase di volatilità massima intorno al 5% quindi molto alto già un 5% per i mercati old Bitcoin invece ragazzi in quella famosa giornata di marzo è iniziata ad arrivare a volatilità del 10%. Però diciamo che escludendo questa giornata ragazzi che oggettivamente non era mai successa negli ultimi anni sui mercati criptovalute quindi è una cosa estremamente rara ma la volatilità media degli ultimi 30 giorni si discosta tra Bitcoin e il mercato S&P 500 ma non è così tanto diversa ragazzi. Se noi stiamo parlando di un indice ragazzi l'S&P 500 è un indice fatto da 500 titoli qui lo stiamo paragonando a un singolo strumento finanziario ragazzi perché se io vi prendo alcuni titoli presenti nell'S&P 500 la volatilità sarà sicuramente più elevata di quella di Bitcoin. Quindi questo lo dobbiamo considerare una differenza di 3 punti di volatilità neanche 3 punti 2 punti e mezzo ragazzi nell'ultimo mese di volatilità di Bitcoin maggiore rispetto a S&P 500 significa che non c'è nessuna differenza. Anzi se dovessi dire la mia direi che è stato meno volatile Bitcoin perché Bitcoin ragazzi è un singolo strumento S&P è un insieme di 500 titoli ragazzi quindi è diversificato mentre qui noi abbiamo un singolo strumento. Incredibile ma vero ancora una volta ragazzi la volatilità della criptovaluta re in questo caso è stata accettabile neanche così tanto alta rispetto a quella dei mercati old S&P 500 in primis. Bene siamo arrivati alla fine di questo video e ci lasciamo con una domanda una riflessione ragazzi abbiamo visto che i mercati criptovalute non sono morti per niente Bitcoin si è un po' spento in questo periodo magari ci ragioneremo un po' nelle prossime settimane ragazzi faremo un po' dei video mirati quindi iscrivetevi se non volete perdere questi aggiornamenti sul canale. Ma abbiamo visto che la volatilità di Bitcoin si è riuscita a mantenere in maniera accettabile rispetto ai mercati old nonostante abbia fatto questa pandemia in maniera illesa. Cioè è vero ragazzi Bitcoin ha passato questa pandemia siamo ancora in corso comunque è passato durante questa fase tra i sali e scendi senza colpo ferire è rimasto illeso. Mentre abbiamo un mercato old ragazzi che subisce un meno 12% con una volatilità anche estremamente alta che se paragonata al singolo strumento in questo caso Bitcoin ci fa riflettere sul fatto che i mercati old siano effettivamente poi così tranquilli così sicuri rispetto ai mercati delle cripto. Chiaramente ragazzi ci sono tante altre riflessioni da fare questo video non è non vuole essere un video esattivo ma cosa ne pensate voi di questi numeri lasciatemelo scritto nei commenti bene ciao a tutti ci rivediamo nel prossimo video.